Pareggio a reti bianche a Rivera delle Palme fra San Benedettese e Vastese, in una gara ricca di emozioni e di occasioni da rete. Dopo la sconfitta interna contro il Tolentino, è prova d'orgoglio e di riscatto per gli uomini di D'Adderio, che vanno più volte vicini al colpo grosso, impattando però sul campo di una squadra ambiziosa in estrema caccia di punti. Con le immagini di Andrea Tilio di Blasio, passiamo agli elastri della partita. Pronti via e dopo una fase iniziale di equilibrio, la Vastese sfiora il gol. E' il decimo, quando dalla fascia sinistra parte un cross molto insidioso. Lì si rinvia e per poco non compie l'autorete colpendo la traversa. La Samp si risistema, ma la botta da fuori di Lulli non crea problemi a Direnzo. I padroni di casa tengono il pallino del gioco, ma la Vastese negli spazi si muove scaltramente. Scafetta, ben servito da Alessandro, coglie soltanto l'esterno della rete. Alla mezz'ora, azione avvolgente dei Biancorossi, che consente a Diallo di servire al centro Alessandro. Il cui colpo di testa è troppo debole per infilare il Knoflak. Poco dopo, alza la testa e prende la mira Scafetta, la cui conclusione è sporcata in corner da un avversario. A rientro dagli spogliatoi, neanche il tempo di ragionare ed è subito occasionissima Vastese. Sguscia via in contropiede Ficara, cioccolatino per Stivaletta, che da ghiotta a posizione sciupa tutto. Si salva così la Samp, che prova a prendere coraggio e dall'altra parte impegna Di Rienzo in uscita bassa. Anche nella ripresa, la squadra di D'Adderio trova gli spazi per far male ed il fendente di Ficara esce alto di un soffio. Poco più tardi, un potenziale 3 contro 1 mette i brividi ai padroni di casa, che si salvano come possono sul diagonale a botta sicura di Alessandro. Nel momento migliore degli abruzzesi, però, doppia chance colossale per i marchigiani. Prima è ottima la sponda di Fall per il non entrato Cardella, che da due passi non impatta appieno il pallone del vantaggio. Poi, con una bella imbucata in verticale, lo stesso Fall si ritrova occhio negli occhi con Di Rienzo, ma sbatte sul muro arancione retto dal numero 1. Nel finale, cala la Vastese ed insorgo negli ultimi assalti locali. Pregevole lo spunto di Peroni, il suo tiro cross è smanacciato dal portiere. L'ultima possibilità capita sui piedi di Tancredi, ma la sua botta mancina è neutralizzata da Knoflak. Non succede più nulla e dopo tre minuti di recupero, il direttore di cara pone fine alla contesa. E dunque pareggia d'occhiali tra due squadre che hanno battagliato senza esclusione di colpi, non riuscendo a farsi male reciprocamente.